Pronto? Eh, pronto? Sì, chi è? Eh, salve, guardi, la chiamo perché il mio ragazzo sta ricevendo chiamate da questo numero di telefono e vorrei sapere perché. Mi potrebbe dire chi è lei, per favore? Ah, è quello scherzo, guarda, senti. Pronto? Riguardo quello scherzo. Ah, è stata lei? Dunque, io sto chiamando direttamente dal suo telefono al numero da cui mi ha ricevuto la chiamata e mi hai risposto tu. Mi stai dicendo che non sei stata tu? Potresti dirmi perché lo chiami, per favore? No, sì, sono stata io. Sono stata io? Guarda, questo mi sembra davvero troppo. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo. Perché se c'è un'altra io non ne voglio proprio sapere nulla. Sparisco e basta. Da quanto tempo state uscendo insieme? Eh, che sono un paio di mesi. Sì. Allora, senti, fallo testo. Sappi che Alberto è un ragazzo, diciamo, abbastanza, come dire, facile. Che passa da una relazione all'altra, con gente di Tinder, e spesso non viene a dormire a casa. Quindi, se la cosa ti può piacere, sei libera di condividerlo con tutte le altre. Grove, tre! Che cos'ata, mia stai 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 stai? Grazie.